ciao bella picciotti sono Narciso benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qua insieme a Green Metal Bender nel survival game di SpampyWP ciao a tutti e niente stiamo un po' registrando questi video almeno ce li abbiamo un po' pre-registrati inoltre io oggi li abbiamo registrati un bel po' si io penso 2 3 2 sicuro 2 sicuro 2 1 è quello della texture ne abbiamo registrati così tanti che abbiamo anche perso il conto quindi esatto 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 comunque boh siamo qua perchè boh ci sta prendendo un po' c'è uno un chilo tocchino chilo queste sono le belle notizie è bello che io in una t2 che ci trovo un po' nel metro wow wow proprio gg proprio best t2 eva comunque ragazzo di nuovo utilizzando la siomc perchè boh giocando con la 1 7 normale largo troppo siccome non mi piace la gara anzi se riesco proprio percorso sarebbe col cliente giusto si 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 il client il client oh madonna che schifo fanno queste casse non ne parliamo guarda no vabbè diciamo che io un po' di roba ce l'ho eh vado nelle fogne cioè ho preso un tipo 3 t2 che ci trovo piedini e il metro e basta ma che è no io nelle fogne ci evito sempre ad andarci perchè ogni volta tipo mi secco a uscire poi c'è ci perdo troppo tempo tutte le volte please un corpetto no wow wow sono troppo lucky raga troppo lucky indovina che ci ho trovato comunque dove sei tipo alle fogne che è quello alle fogne eh ti vedo ti vedo ti vedo ti vedo è tutta una fogna stavolta quindi lol ti vedo ti vedo ti vedo ah spesso sei tu quello si sei tu beh posso crassare no 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 è tanto inutile ho preso tutto che spada hai? pietro ok posso fare quella in via io ok buono dov'è che sei? vabbè vai alla casa dove c'è la cra no torna indietro telepatia 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 italiano italiano fuori arriva un altro eh c'è un team eh c'è un team comunque perchè uno scritto c'è vieni 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 aspetta clina 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 vabbè no stica 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 facciamoci la spada che è molto molto meglio e io ne ho due però ho lingotte iron se vuoi no ok allora ci facciamo sta spada ci facciamo ste frecce c'è uno gas che mi dice vieni su ts eh bro stiamo reccando non so aspetta un altro che rispondo oh qua ci sta ci sta ok ma te l'ha scritto su mc eh eh chi è chi è si chiama gas 22 boh vabbè mind game no 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 non è in game mi saluti ok e vuole essere salutato salutiamo car vai vai dimmi com'è che si chiama eh gas 22 bella per gas 22 sto qua bobo spammo un po troppo per i miei gusti direi che forse è meglio se ce la diamo al camp si si non andiamo se prendo le frecce per te e accendiamo si infatti anche perchè francamente muoerci per un bospam arriva 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 ahi voglia di bospamare bospamma contro di me e io non nemmeno l'arco cioè sincero ah no c'è un arco con queste frecce non lo sapevo vai sto qua visto che ho voglia di bospamma e bospamma contro di me no dato che all'arco lo sottilisero abbastanza bene qua ci stanno altri due aspesso intimo ho rotto il cazzo però di bospamma no non sono intimo o forse si non lo so eh troppa 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 gente che ti serve? no no speciale un po' di cibo o qualcosa tipo tieni tieni ok basta attento no 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 narciso scusami vai ritorna 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 fermo 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 no non fare queste cose perchè sei poca vita già eh lo so però ti ho dato poco non conviene ah vuole trappare mamma mia un god ehi non vuole trappare ok pensavo volesse trapparci va bene eh che facciamo andiamo a killare coi due oppure ehm ma si dai a sto punto dove sto che sto qua vuole soltanto tryhardare che si diverte pure uno contro due esatto qua c'è stando player c'è stando ben due non sono un non sono in team sono in team vieni qua c'è uno c'è un full player si l'ho notato aspetta aspetta perchè se chilo questo siamo full e no ok dai spada in dia no spada in dia ti aiuto io andiamo andiamo aspetta è un shot per caso no non penso ok dai attendo non restare fermo in un punto se scrive qualcosa io non lo so quindi no allora sto qua comunque non ho tanta vita eh mi servirebbe mangiare un secondo ok dai hanno comunque si sono in team a sto punto va bene andiamo da questo ho un suon intimo attento arrivo ok mi hanno scritto tutti esse anche a me ah aspetta 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 ritorna oh merda no 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 ritorna no 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 vai via 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 si lol non stanno team monte non stanno team monte allora meglio così sto qua però vai vieni attento dietro ops non me ne ho raccorto per niente vai vieni 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 non gi' andare non gi' andare non gi' andare hai messo full iron tu sei messo molto molto peggio si e inoltre ho la spada in pietra non tolgo niente assolutamente nulla l'abbiamo dietro c'è non proprio dietro però vicino vai vieni salgo nelle scale no c'è il tizio c'è il tizio ebbè ma no non le fare ste cose non le fare perché così ci moriamo vieni scendi 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 aspetti scendiamo scendiamo le devi ragionare anche ste cose aspetta aspetta forse ci c'è quello sotto c'è quello sotto aspè no allora vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni 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 se cosa uno le deve ragionare per bene perché si fa cavolate e ci muore seguiamo seguiamo narciso quello del master seguiamo lui il nostro punto di riferimento ecco stai arrivando ok sono scendi fermo fermo vieni 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 tranquillo e lo sai che io ti può ragionare qui vabbè c'è il refill ok andiamocelo a prendere dai che chiamiamo uno dei due tipo tu frate compa vieni qua almeno uno o dobbiamo killare e diciamo il pensiero dai uno ci muore poco ma sicuro no però il fatto è che l'altro è messo da dio quindi tipo qui no e cose varie ok la killato bella eh no ma non devi andare prima da lui scusami aspetta aspetta un attimo che dimangata vieni il corpetto vieni il corpetto vieni il corpetto no attento no 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 fermo 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 gambecca gambecca ok bravo ok perfetto no ovviamente arriva l'altro che lagga eh lo so aiutami con l'altro perché sono morto preso preso fuori vieni 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 ok ok eh no zero vediamo oh qua ci sta un corpetto pigliatelo dammelo dov'è qua ok perfetto ti posso fare la spada in dio beh si ma attento stare in giallo aspetta fermo tieni tieni restitiamo per 10 secondi sì sì vabbè non è quello il problema dai per danno da caduta per mezzo a male vabbè ci penso io sono morto per danno da caduta penso che me lo chissano non ho vita dai non posso vedere per danno da caduta hai rotto il cazzo questi fns oh lol bravo dici la carichi? certo però non sono felice se non scrivo Katniss eh l'ho Katnissato malamente vabbè dai eh ah c'è James che mi scrive ti ricordi di me eh raga io saluto James eh sei nel video lol siamo invasi dai fan eh sì lo so siamo invasi c'è veramente raga raga abbiamo i fan raga ma che ci vuole fare FabiJ raga altro che FabiJ appunto qua ci sono Green Metal Bender e Narciso in confronto a noi due ma cosa vuole fare? oh eccolo ok eccolo qua eccolo qua bella aspetta metto all'altra parte io quindi raga con il fan qua in mezzo salutiamo Gast22 naturalmente e anche James perchè purtroppo non l'ho notato ma comunque c'era pure James che dire io spero che questo video vi sia piaciuto mi dispiace soltanto che alla fine ci sia morto perdendo da caduta ma sono felice di aver cattinissato quel tizio malamente detto questo boh io penso che il video si possa terminare qua appunto spero che vi sia piaciuto nel caso dovesse essere così vi invito a lasciare un mi piace un commento e che dire da Narciso è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti 100 like hai notato? hai notato? legge la chat fantastico ciao a tutti